Continuiamo la nostra diretta, dunque questa mattina torniamo a parlare di innovazione, di economia circolare, di buone pratiche, lo vogliamo fare con Leonardo Binetti di Arabat che è in collegamento con noi e per noi dalla lontanissima Scozia. Buongiorno Leonardo, bentrovato, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti, bentrovati anche voi, grazie. Dunque Leonardo sei il fondatore di Arabat che è una start up per l'economia circolare che sviluppa processi innovativi per il riciclo di rifiuti pericolosi, stiamo vedendo il vostro sito internet. Non voglio fare un excursus dei premi che hai vinto solo nell'ultimo anno, che la tua start up ha vinto solo nell'ultimo anno. Mi limito all'ultimo che ti è stato conferito dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'ottobre del 2022, l'ENI Award. Dunque partiamo dall'inizio, raccontaci un po' come nasce la mission e soprattutto come funziona questa start up Arabat. Partiamo proprio dal nome, ecco. Ecco, no va bene, noi siamo cinque fondatori, perciò sono io e altri quattro giovani pugliesi che abbiamo fondato Arabat e Arabat sta per arancia e batterie, perciò ara per arance e batterie. L'unione fa Arabat in questo caso. E come nasce quindi questa start up? Il progetto nasce come un'unione di quattro ragazzi, io sono il quinto che si aggiunge dopo, che si sono riuniti tra di loro per affrontare problemi di economia circolare e di sostenibilità ambientale. Dopodiché hanno deciso di costruire un progetto imprenditoriale, proprio basandosi su una ricerca scientifica, ispirandosi a una ricerca scientifica trovata sul web, che parlava proprio di riciclo di batterie con biomasse. E noi abbiamo deciso di portare questa ricerca scientifica allo step successivo, ovvero quello proprio di costruire un'azienda su questo progetto qua. Perciò dalla teoria alla pratica. E come funziona? Parlaci un po' dei processi produttivi che la vostra azienda porta avanti, che implementa. Ok, noi quello che facciamo, in poche parole, noi facciamo riciclaggio e vendita di metalli dalle batterie. Perciò noi, in poche parole, cosa facciamo? Prendiamo le batterie esauste delle macchine elettriche, biciclette, computer, smartphone, che hanno batterie a litio all'interno, le prendiamo, facciamo un pretrattamento e poi facciamo una reazione chimica che permette di ricicliare i composti metallici e di farli precipitare definitivamente dopo. Quello che voglio dire è che dopo che noi prendiamo la batteria, i metalli che andiamo a vendere poi sono il litio, cobalto, manganese, nickel, rame e alluminio. Perciò quello che noi cerchiamo di fare è proprio di fare un processo di economia circolare dove rimettiamo questi metalli di nuovo in circolazione. Ecco, infatti, volevo proprio arrivare a questo punto. La vostra start-up sviluppa dei processi di economia circolare che in qualche maniera servono anche ad abbattere quelle che sono le emissioni che vengono da tutti quei processi che poi servono per smaltire le batterie in una maniera potremmo definire tradizionale che poi abbiamo scoperto essere anche inquinante. Dunque, davvero un processo molto importante. Quello che vorrei chiederti, Leonardo, tu ci hai parlato di questa fusione di menti, ecco, quattro menti a cui tu ti sei aggiunto alla fine. vorrei chiederti un po' come si incrociano, quali sono anche le caratteristiche di questi che sono dei cervelli in fuga di quella che è anche la costituzione della start-up e poi anche del tema dell'economia circolare che è un tema che sappiamo essere di estremissima attualità in questo 2023, ma non solo. No, no, infatti il tema dell'economia circolare è un tema che ovviamente è, come viene considerato, è hot topic, nel senso che è davvero molto importante saperla utilizzare l'economia circolare perché ovviamente in termini di sostenibilità il problema è abbastanza pesante, nel senso che stiamo andando verso il problema di inquinamento da batterie a litio in questo caso proprio perché le batterie a litio aumenteranno e aumenteranno nei prossimi anni perciò quello che noi ci stiamo preoccupando di fare è proprio di cercare di fare un'economia circolare proprio sulle batterie a litio che non verranno più utilizzate e verranno semmai un giorno incenerite per evitare l'incenerizzazione delle batterie quello che noi cerchiamo di fare è di prendere i metalli e di riportarli nel mercato proprio come un processo di economia circolare. Senti Leonardo, noi abbiamo visto prima dal vostro sito internet che la start-up è italianissima se vogliamo e permettimi di essere ancora un po' più riduttivo nel voler dare una definizione geografica è strettamente pugliese, giusto? Sì, sì, sì. Ecco, voi come avete esportato questa pugliesità che è un po' un aggettivo che ci piace anche in quella lontana terra che è la Scozia, tanto bella oggi prima parlavamo a telecamere spente quando eravamo in pubblicità del fatto che oggi dopo giorni di nuvole è uscito un raggio di sole ecco, ci piace pensare a questo ponte ideale tra la Puglia e la Scozia nel nome del sole, del calore, del caldo se vogliamo Sì, sì, diciamo che è davvero una giornata fortunatissima sento contentissimo di essere qua proprio perché abbiamo il sole per la prima volta dopo tre settimane di nuvole e piagge no, quello che volevo dire è che non abbiamo esportato tanto Arabat in Scozia ma l'abbiamo esportata più o meno in tutto il mondo siamo andati anche in Canada, siamo andati anche in Europa a fare competizioni dove l'abbiamo anche vinta e abbiamo anche una partnership con il Canada che ci sta aiutando proprio per la sua pre-industrializzazione e poi cercare di fare l'industrializzazione di Arabat stessa chiedo scusa per il mio italiano ma vivo all'estero da parecchi anni La Puglia che si fa valere Leonardo siamo un po' orgogliosi da questo punto di vista perché è importante che tanti nostri giovani esportino anche un modo di essere che è quello appunto pugliese e poi anche ovviamente le conoscenze e le competenze acquisite anche nel corso degli studi e delle varie esperienze all'estero come nel tuo caso vorrei farti un'altra domanda che è una domanda un po' diciamo a livello generale perché abbiamo affrontato anche se solamente marginalmente un po' quello che è il tema dell'inquinamento nello specifico del tuo settore dell'inquinamento da batteria anche se sappiamo che le batterie ormai pervadono la nostra quotidianità e dunque è importante che ci sia anche una sorta di ciclo di fine vita che consenta poi di non inquinare il pianeta secondo te in che maniera riusciremo a venire fuori da questo circolo vizioso se vogliamo dell'inquinamento che le nuove tecnologie in qualche maniera hanno portato ad essere ancora più forte se vogliamo al giorno d'oggi allora secondo me questa è un'opinione e ringrazio per la domanda secondo me è credere nelle tecnologie verdi il primo passo proprio per andare avanti dunque se vogliamo è una sorta di metodologia che parte proprio dall'essere green alla fonte permettimi anche un po' di parafrasare in questa maniera qui la tua definizione, giusto? sì, sì diciamo che voglio anche aggiungere il fatto degli investimenti in questi progetti e start-up cioè nel senso di credere e di in un paese in via di sviluppo dal punto di vista di start-up ma in un paese competitivo che va avanti e cerca di competere e di portare innovazione al resto del mondo questo è come la vorrei vedere io in questo momento bene Leonardo allora facciamo vedere ancora una volta chiedo alla regia il sito internet di Arabat questa start-up che stamattina abbiamo voluto presentarvi in pochi minuti che si dedica allo sviluppo di processi innovativi per il riciclo di rifiuti pericolosi nello specifico delle batterie e voglio ringraziare Leonardo Binetti tra i founder di appunto di questa start-up per essere stato con noi e per averci anche un po' aiutato a comprendere quelle che sono le tante problematiche che poi tante volte se vogliamo a cui noi non diamo peso ecco il fatto che le batterie vengano riciclate in una maniera responsabile permettimi questo aggettivo Leonardo ci permette di vivere in un pianeta più pulito non solo per noi ma anche per i nostri figli e per i nostri nipoti grazie Leonardo per essere stato con noi grazie mille a voi buona giornata grazie buona giornata a te salutaci la Scozia ecco permettici anche questo saluto noi ci fermiamo per la pubblicità pochi istanti di pausa e poi ancora insieme grazie